Ha preso il via da oggi la campagna di sensibilizzazione del Comune di Verona contro l'uso di botti e petardi in vista del Capodanno e delle feste. Una ricorrenza che i cittadini sono soliti salutare con fuochi d'artificio, le cui conseguenze possono essere pericolose per bambini, anziani e animali e che il Comune invita a non effettuare, a salvaguardia anche, dell'incolumità pubblica. L'amministrazione ricorda inoltre che dal 2018 il divieto di scoppiare botti, petardi e fuochi d'artificio sul territorio è normato da un preciso articolo del Regolamento di Polizia Locale che prevede sanzioni fino a 200 euro per chi non lo rispetta. Dobbiamo ricordarci innanzitutto che è vietato dal Regolamento Comunale della Polizia Urbana, questo a tutela degli animali che sappiamo hanno un uvito, un olfatto molto più importante dei nostri per cui arrivano addirittura a morire di paura quando anche non scappano e quindi arrecano rischio alla loro vita ma anche a quella degli altri ma anche è bene ricordarsi delle persone fragili come i bambini, i ragazzi, gli adulti che soffrono di autismo e che vivono veramente dei momenti drammatici per cui divertiamoci ma ormai potremmo riuscire a divertirci anche rispettando gli altri.